Che cos'hai lì? Semplici antibiotici. Difficile trovare gli antibiotici di questi tempi. Sentite, non ho molto, ma prendete quello che vi serve. Ti stavamo osservando. Cercavi questa? Avanti, ragazzi. Le macchine sono il nemico. Siamo dalla stessa parte. No, no. Io ho un paio di amici dalla mia parte. Magari ti riporteranno a casa, quando avrò finito con te. Forse dovresti metterci un proiettile.